Due arresti dei carabinieri a Bari. Un georgiano, 34enne, è finito in manette mentre tentava l'ennesimo furto in un esercizio commerciale di Corso Cavour. È stato sorpreso con una borsa a tracolla schermata con una pellicola per eludere i sistemi antitaccheggio. All'atto delle verifiche da parte dei carabinieri, lo straniero ha opposto resistenza cercando di guadagnarsi la fuga, ma è stato bloccato dopo una breve collutazione. Da successivi accertamenti è risultato che nel negozio c'era un ammanco di merce per un valore di 800 euro, al momento non rinvenuta. Il georgiano è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale in attesa del giudizio direttissimo. Arresti domiciliari invece per un sorvegliato speciale del quartiere Carrassi, che durante un controllo mirato è stato sorpreso a parlare con altri pregiudicati in violazione alle prestizioni della sorveglianza speciale. Grazie.